Sergei Rabshenko, il campione d'Europa che il nostro Adriano Nicchi andrà a incontrare il 30 marzo nella Sala delle Stelle nel Principato di Monaco. Guardiamolo un momento da vicino, questo bielorusso, campione assoluto di tutto il continente europeo, in queste immagini con pantaloncini neri senza banda alla cintura, un ragazzo di 27 anni con un curriculum impressionante, 22 incontri da professionista tutti vinti senza alcuna sconfitta e 16 dei suoi successi li ha ottenuti mettendo K.O. gli avversari, una vera macchina da boxe. Rabshenko ha battuto anche il francese Cédric Viteau, campione dell'Europa Unita, quella dell'Euro per intendersi. Il nostro Adriano Nicchi, campione italiano dei Super Welter, titolo che ha lasciato vacante proprio per tentare questo match europeo, deve affrontare questo pugile bielorusso per continuare a dare luce alla propria carriera e a dare lustro alla tradizione della box aretina che di campioni fulgidi ne ha molti. Adriano Nicchi si è preparato come non mai nella sua carriera, è un serio professionista che non si aspetta favoritismi dalla sorte. Adriano Nicchi conta soltanto sui propri pugni, sulla preparazione e sulla capacità di soffrire sulle ring. Il 30 marzo nel Principato di Monaco lo attende una prova terribile.